L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Gli imprenditori nel mirino della Guardia di Finanza di Catanzaro avrebbero avuto rapporti con Cosche e Indrangata per proteggere le proprie aziende. Il sindaco Flavio sta, si lancia l'allarme, troppi contagi nelle ultime ore nel nostro comune, da qui la decisione di passare in zona rossa, ma molto vicino a quella rossa. Non le manda dire Luigi De Magistris in riferimento al caos vaccini e sanità che stanno investendo quotidianamente la nostra regione, strali anche Verlongo e Spirli, importante progetto a Reggio Calabria per la rigenerazione urbana che interesserà un'area di 50.000 m2, su Lungomare Cittadino, domenica il taglio del nastro e poi Chef Ribbonese Calcio e Banco Alimentari per sostenere la solidarietà in campo 45 cuochi che hanno preparato oltre 45.000 pasti caldi da Ercole, la tappa crotonese. Giovedì 11 marzo, sono le 14 e un minuto, benvenuti alla nostra prima edizione del telegiornale. Dunque la cronaca in apertura, blitz della Guardia di Finanza per l'esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare. Nel corso dell'operazione denominata Coccodrillo e diretta dalla DDA di Catanzaro, sono stati eseguiti anche sequestri preventivi per 50 milioni di euro. Ci dice tutto Antonio Capria. C'era anche la fornitura di calcestruzzo per importanti opere pubbliche come il macrolotto della nuova statale 106 tra gli affari del gruppo imprenditoriale Lo Bello, che grazie ai legami con la Coscarena di Isola Caporizzuto ed altre consorterie della fascia ionica, aveva ottenuto una posizione dominante nell'esecuzione di lavori edili a Catanzaro e nella provincia. Ma i Lo Bello erano anche degli imprenditori intoccabili, protetti dalle richieste estorsive di altri gruppi criminali. Con l'operazione Coccodrillo, coordinata dalla procura distrettuale antimafia guidata da Nicola Gratteri, la Guardia di Finanza di Catanzaro ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP a carico di 10 persone, imprenditori, prestanome, professionisti al servizio del gruppo, a finire in carcere Giuseppe Lo Bello, i domiciliari il padre Antonio e il fratello Daniele, altri quattro indagati, tre professionisti raggiunti da misure interdittive mentre sono stati sequestrati i beni e aziende per un valore di 50 milioni di euro. Decine di imprese che noi inseguiamo e loro cercano di mutare pelle nel corso degli anni proprio per non farsi acchiappare sul piano delle misure di prevenzione, sul piano dell'interdittiva antimafia e poi sul piano penale. Ma questa volta la Guardia di Finanza è stata più brava di loro, è stata più veloce di loro ed è riuscita attraverso questa indagine di dimostrare come queste imprese, muovendosi con l'aiuto, con la complicità, con la connessione, con l'abbraccio delle famiglie di Indrangheta possono essere dominanti rispetto ad altre imprese di persone per bene, di persone che rispettano la regola dello Stato pensando quindi di riuscire a saturare il mercato nel mondo degli appalti sia pubblici che privati. Abbiamo registrato la fornitura quasi monopolistica del calcestruzzo per quanto riguarda la realizzazione dei macrolotti della statale Ionica 106 attraverso delle imprese riconducibili tanto, ripeto, al gruppo stesso quanto ad altri gruppi criminali operanti nella provincia di Reggio Calabria, in particolare mi riferisco alle imprese che erano riconducibili al clan Mazzagatti Rustico di Oppido Mamertino. Contestato il concorso esterno in associazione mafiosa per Giuseppe Lobello che avrebbe svolto la funzione di collettore delle estorsioni imposte dalla Coscarena ai cantieri edili del Catanzarese. Certo non può non rilevarsi che l'aver accertato che un imprenditore si mettesse a disposizione di questi gruppi criminali e a punto tale di andare a riscuotere rate estorsive nei confronti di altri colleghi imprenditori è certo un dato che lascia pensare. La forza intimidatrice sarebbe stata fatta valere anche all'interno delle aziende come nel caso di un lavoratore costretto a licenziarsi. La chiamata gliel'ha fatta Giuseppe Lobello al dipendente, ossia una persona che non ci doveva centrare assolutamente nulla con questa società per far capire appunto che era lui il dominus di tutte le attività e coloro i quali gestivano formalmente l'azienda si dovevano soltanto adeguare a quelle che erano le sue imposizioni. Lasciamo la cronaca alla pagina della pandemia perché nella settimana del 3-9 marzo risulta impeggioramento in Calabria l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti oltre che un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente e quanto emerge dal monitoraggio settimanale sui casi Covid-19 della Fondazione Gimbe in particolare i casi positivi per 100.000 abitanti sono 349 con un più 12,3% rispetto alla settimana precedente. Dal monitoraggio settimanale della Fondazione emerge che anche la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,30% e che quella degli over 80 che ha completato il ciclo è solo del 2,1% contro una media nazionale del 5,2%. Troppi contagi negli ultimi giorni e il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ha deciso di istituire la zona arancione rinforzata sino a domenica prossima. Diverse le limitazioni. Vediamo. Nella Calabria in zona gialla diventa arancione rinforzato sino a domenica il comune di Corigliano Rossano 74.896 abitanti fondato il 31 marzo 2018 dalla fusione dei comuni di Corigliano Calabro e Rossano. Lo ha annunciato il sindaco Flavio Stasi in una nota. Fino a domenica 14 marzo, afferma il sindaco, il comune adotterà le misure che corrispondono al cosiddetto arancione rinforzato. Il termine di domenica, molto breve, servirà per consentire la piena ripresa del tracciamento e verificare ulteriormente l'andamento del contagio. Se la situazione non cambia, l'ordinanza sarà prorogata. Il provvedimento riguarderà sia le scuole che le attività produttive. È consentito uscire di casa dalle 5 alle 22, rimanendo tuttavia all'interno del proprio comune se non per comprovate necessità. Tutti gli istituti scolastici, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, resteranno chiusi e dovrà essere attivata la didattica a distanza. Per bar e ristoranti saranno consentiti esclusivamente asporto o consegna a domicilio entro le ore 22. Non è possibile raggiungere le seconde case. Sono inoltre inibiti gli spazi pubblici quali piazze, larghi, parchi lungomare. Le principali vie commerciali restano accessibili per consentire il deflusso dalle abitazioni private da parte dei residenti, per le esigenze delle persone con disabilità, per l'accesso e deflusso dagli esercizi commerciali consentiti. In queste zone e nelle ore in cui vige il divieto, prosegue il sindaco, non è consentito lo svolgimento di attività motoria o sportiva, se non in forma strettamente individuale, isolata e senza fare uso di superfici esposte al tatto. È inoltre vietato lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo. È vietato soffermarsi nelle aree sopra citate, anche se residenti, fruendo di possibili elementi di arredo, quali panchine o altra superficie comunque esposta al tatto. Assumere questo tipo di decisioni, ha detto Stasi, non è mai facile né piacevole. Il numero di contagi nell'ultima settimana e l'affanno delle strutture sanitarie, però impongono l'adozione di provvedimenti per proteggere la nostra comunità. Da Corigliano Rossano passiamo a Cosenza perché è iniziata la somministrazione al personale Scuola del vaccino AstraZeneca da parte del centro messo allestito dall'esercito italiano. Gestisco un istituto che conta oltre mille studenti e 150 docenti, dice il dirigente scolastico Damiano De Paola. Abbiamo lavorato incessantemente, ha dato buoni risultati, ma la scuola è anche socialità ed è fondamentale tornare in classe. Sono circa 300 le persone appartenenti al mondo scolastico, tra decisione e personale, che entro oggi saranno vaccinate a Cosenza nel solo punto vaccinale allestito appunto dall'esercito italiano. Per Luigi De Magistris, candidato alla presidenza della regione, la gestione delle vaccinazioni anticovid in Calabria è preoccupante. Il sindaco di Napoli attacca sia il commissario alla sanità Longo che il presidente facendo funzioni. Spirli, vediamo. La gestione delle vaccinazioni anticovid in Calabria è preoccupante. Si gioca, come sempre, sulla pelle dei cittadini, che sono gli unici a pagare per la disorganizzazione e le carenze croniche del comparto sanitario. È una vergogna. Sono le parole del candidato a presidente della regione Calabria, Luigi De Magistris. Una situazione disarmante, continua il sindaco di Napoli, che oltre a mettere in serio pericolo la salute dei cittadini, non svolge la funzione prevista di alleggerimento, mentre si continuano a registrare aumenti di contagi e chiusure di interi territori, con i contraccolpi sull'economia e sulla qualità della vita che tutti ormai conosciamo. In tutto questo si registra la totale assenza del commissario Longo, non pervenuto con l'intero management sanitario di vertice e il solito presenzialismo di Spirli, che non contento di fare danni nelle materie di sua competenza, sta mettendo mani anche in situazioni che esulano dal suo ruolo istituzionale. Il sistema di prenotazione è un totale disastro. In primis, nessuna piattaforma digitale, ma solo prenotazioni telefoniche, a volte impossibili. Perché non prevede sistemi più moderni e veloci? Si chiede De Magistris. Ed ancora, ci sono problemi nella catena di distribuzione del vaccino e sarebbe importante capire, prosegue, quali sono i criteri scelti e come mai non funzionano. E poi anziani fatti aspettare in lunghe code, con rischio serio di contagio data la loro fragilità, e poi rimandati a casa senza la vaccinazione, mentre a volte ASP e protezione civile, di fatto finiscono per sovrapporsi nelle rispettive funzioni. Si registrano inoltre, conclude De Magistris, casi eclatanti di gente che viene vaccinata pur senza averne diritto. Con il solito sistema degli amici degli amici, anche qui grazie alla scarsità di controlli ed ad un sistema che non funziona. Nella mattinata odierna, il sindaco di Isola Caporizzuto, Maria Grazia Wittemberg, è risultata positiva al tampone rapido faringeo in seguito alla presenza di lievi sintomi e si trova al momento in quarantena in attesa di tampone molecolare. Tutti coloro che hanno avuto contatti, si legge sul sito Facebook del comune di Isola Caporizzuto, quindi tutti quelli che hanno avuto contatto con lei, negli ultimi giorni sono pregati di recarsi presso il più vicino laboratorio per effettuare un test. Di conseguenza sono stati annullati tutti gli appuntamenti in programma che aveva il primo cittadino. Su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il GIP Stefania Rachele ha scarcerato Carmelo Giustra, il presidente del seggio arrestato a dicembre nell'ambito dell'inchiesta su presunti brogli elettorali alle comunali del 20 e 21 settembre scorso a Reggio Calabria. Giustra era finito ai domiciliari insieme al consigliere comunale Antonino Castorina del PD. Subito dopo l'arresto, l'indagato ha reso dichiarazione al procuratore aggiunto Gerardo Dominiani e al PM Paolo Petrolo e Nunzio De Salvo. Con il PM infatti Giustra ha parlato di un vero e proprio accordo con Castorina, quest'ultimo lo aveva nominato presidente di seggio, dove avrebbe fatto risultare le preferenze di anziani che in realtà non hanno mai votato. A distanza di quasi tre mesi, il GIP ha revocato gli arresti domiciliari a Giustra, ritenendo non sussistere più le condizioni per mantenere la misura cautelare. Restiamo a Reggio perché il Waterfront della città dello Stretto è un progetto molto importante per quanto riguarda la rigenerazione urbana e si interesserà di un'area di oltre 50 mila metri quadrati. E domenica ci sarà l'inaugurazione. Una relazione attenta e dettagliata a Palazzo San Giorgio per la presentazione del Waterfront. Mancano ormai pochi giorni al taglio del nastro della grande opera, il cui cantiere occupa da mesi parte della zona centro-sud di Reggio Calabria. Il countdown è già iniziato e per l'occasione l'amministrazione comunale ha pensato ad un programma ricco di eventi. Al tavolo dei partecipanti il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ricordato l'importante ruolo giocato dal mare nella città, l'idea del progetto Ci pensa il mare nasce dalla consapevolezza che i cambiamenti migliori possono, anzi devono avvenire, dalla straordinaria peculiarità di Reggio Calabria, vale a dire il mare. Soprattutto rappresenta una straordinaria opera di ricucitura del tessuto urbano cittadino, l'abbraccio fra il lungomare Falcomatà e il porto della nostra città, un'opera di rigenerazione urbana straordinaria perché quella era un'area che versava in totale stato di degrado e abbandono e in vista dello sviluppo futuro rappresenta un'area a destinazione culturale, turistica, sportiva, sociale. Quindi ovviamente ancora di più l'idea di quanto intorno alla ricostruzione di un rapporto fra la città e il mare si possano realizzare prospettive di sviluppo per il nostro territorio. 50.000 metri quadri di trasformazione complessa non solo per estensione ma anche per la collocazione spaziale. Bisogna infatti tener conto che quella del waterfront è una delle aree più di pregio della città dello Stretto. Alla presentazione ha preso parte anche il progettista, l'architetto Gian Domenico Chirico. Il waterfront è una grande opera di rigenerazione urbana proprio perché restituisce alla città un'area che prima era in condizioni di marginalità, di degrado, di disqualità architettonica e che invece adesso viene restituita alla città offrendo diverse destinazioni funzionali, offre la possibilità di avere un grande punto intermodale, offre la possibilità di avere nuovi spazi all'aperto, nuovi spazi di socialità, offre la possibilità di godere di uno spazio fondamentale. Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce lancia un appello ai giovani e li ricorda di avere responsabilità rispetto delle regole, un invito ancora pressante alla cittadinanza di prestare la massima attenzione perché, dice il sindaco, siamo ancora in una fase emergenziale, adottiamo tutte le misure di prevenzione, evitiamo assembramenti, indossiamo le mascherine. E poi sempre rivolgendo sui giovani dice abbiate cura di voi stessi, evitate comportamenti che mettono a rischio la vostra salute e di quella degli altri, date voi almeno l'esempio, intensificare i controlli, conclude. Poi il sindaco sarà particolarmente importante ma è necessaria la massima collaborazione da parte dei cittadini, comportamenti corretti e responsabili sono quanto mai fondamentali per vincere questa battaglia contro il coronavirus e conclude, ritornare quanto prima possibile alla normalità. Irregolarità nel trattamento dei rifiuti nell'isola ecologica di Crotonei, questo quanto sarebbe stato scoperto dai carabinieri forestali nel corso di un controllo avvenuto 48 ore fa, a mettere in allerte militari, la fuoriuscita di un liquido maleodorante da uno dei muri di perimetrazione del centro, secondo quanto appurato poi la sostanza sarebbe andata a finire in un fosso naturale. Per accertare l'eventuale inquinamento delle acque di scorrimento sono intervenuti i tecnici dell'ARPACAL. A seguito di tale controllo un imprenditore è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per violazione delle norme in materia ambientale. Anche a Crotone è stata organizzata un'iniziativa nell'ambito della settimana mondiale del Glaucoma, con questo servizio andiamo all'Unione Cecchi Italiana. Siamo nel pieno della settimana mondiale del Glaucoma, sono in programma controlli del tono oculare ma anche diversi webinar con gli specialisti. In questi giorni si stanno svolgendo in tutta Italia alcune iniziative promosse dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e dall'Unione Italiana Cecchi. La parola d'ordine è prevenzione. Il Glaucoma è una brutta patologia che spesso non dà segnali, non dà segnali ma si rivela in tutto il suo dramma quando poi è troppo tardi. Da qui l'importanza della prevenzione perché viene immediatamente colpito il nervo ottico che è quello preposto a dare gli impulsi al cervello, le immagini al cervello, il campo visivo si restringe, il tono oculare interno aumenta per cui si compromette proprio l'organo visivo strutturalmente per quanto riguarda le sue funzioni. Una persona su due non conosce di avere o di essere affetto o predisposto negativamente a questo tipo di patologia per cui la prevenzione è molto importante e noi lo facciamo. Nel laboratorio oculistico dell'Unione Italiana Cecchi le visite sono state effettuate dal dottor Giovanni Cimbalo. Il Glaucoma è una malattia che potremmo definire come una malattia degenerativa, una malattia degenerativa che coinvolge l'occhio ma soprattutto coinvolge una delle strutture più nobili dell'occhio, ossia il nervo ottico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è una malattia che nelle forme sue più comuni, ossia il glaucoma cronico, impiega anni a fare danni nell'occhio e questo fa sì che all'inizio spesso sia assolutamente asintomatica. Tenga conto che sui vecchi libri e non solo su quelli si parla di ladro silenzioso della vista, proprio perché è una malattia che lasciata a se stessa consuma in qualche maniera le vie nervose della vista senza che il paziente se ne accorga, se non quando il danno è fatto. Lei si immagini un camion lanciato in discesa, lei può provare a fermarlo, magari ci riesce ma sicuramente non si fermerà di botto, continuerà a camionare un po' e così è il danno. Un'idea nata dal Vibonese Calcio che ha coinvolto Chef e anche il Banco Alimentari, in un anno sono stati prodotti 45.000 pasti caldi per i più bisognosi, è stato scritto anche un libro Alimentiamo la solidarietà, la tappa a Crotone presso il ristorante da Ercole, vediamo. E ha fatto tappa a Crotone l'iniziativa di solidarietà voluta dalla Vibonese Calcio e del suo patron Pippo Caffo su input di Daniele Cipollina, responsabile dell'area marketing della società. Alimentiamo la solidarietà, che è anche il titolo del libro edito da Rubettino nel quale si possono trovare centinaia di ricette di molti chef stellati, è il claim che ha fatto sì che in un anno la Vibonese Calcio insieme con il Banco Alimentari e 45 tra i migliori cuochi della Calabria, uniti insieme, sono riusciti a consegnare ai bisognosi, soprattutto in un periodo complicatissimo a causa della pandemia, ha raccolto fondi per 100.000 euro. La tappa crotonese è stata ospitata nei locali del ristorante da Ercole alla presenza di autorità civili e militari, con in testa il prefetto di Crotone Ippolito, il sindaco della città Vincenzo Voce, il procuratore della Repubblica Capocci, il presidente di Assindustria Cesare Spanò e il direttore dell'ISMEA Franco Laratta. Al termine della manifestazione Daniele Cipollina ha provveduto a omaggiare quanti si sono prodigati in questo progetto con realizzazioni realizzate dal maestro Orafo Michele Affidato con delle casacche personalizzate della Vibonese Calcio con il classico prodotto della distilleria vibonese, l'amaro del capo ormai conosciuto in tutto il mondo. Daniele Cipollina, non è facile mettere insieme in funzione una macchina così complicata la squadra di calcio, gli chef, la solidarietà, il banco alimentare, ci avete provato? Ma il risultato è sotto gli occhi di tutti. Sì, devo dire che come anticipavo prima durante il mio intervento, noi meridionali abbiamo un grande limite, essere donisti pensiamo a noi stessi e non riusciamo a condividere, questa è stata la migliore espressione in cui la condivisione e l'aggregazione è il volto vero della Calabria, per cui grazie, grazie agli chef e grazie a tutte le aziende che si sono adoperate a sostenere e a continuare a sostenere questa iniziativa. Gianni Romeo, insomma la Vibonese Daniele Cipollina e questa iniziativa vi ha dato un grande assist per quanto riguarda la vostra attività. Sicuramente è stata un'iniziativa molto bella, anche, voglio dire, versatile, perché accomuna diversi mondi, il mondo dello sport, il mondo della cucina, il mondo delle istituzioni e il mondo del volontariato, quindi che insieme cercano di dare aiuto a chi si trova più in difficoltà, questo è il messaggio più bello. Abbiamo iniziato nella pandemia, logicamente mi hanno, lo dico, convolto in questa cosa, io non mi ritiro quando ci sono queste cose di beneficenza, abbiamo fatto 15.000 pasti tutti i ristoranti della Calabria. Oggi sono orgoglioso perché è un continuo, come è da me, saranno gli altri ristoranti della Calabria, tutti insieme siamo riusciti a fare questi pasti, grazie a Pippo Caffo che ha dato questa apertura per noi e al direttore Cipollina che ha messo tutti insieme tutti questi ristoranti. E questi sono gli arbitri per le gare delle Calabresi in programma in questo weekend, abbiamo detto di Lazio Crotone in programma venerdì alle 15, sarà diretta da Rapuano di Rimini con Prenne Capaldo e i suoi collaboratori, quarto uomo Giulio Di Paolo al bar di Orio assistente bar. Regina Monza è stata affiliata a Gersini di Genova, mentre Salernitana Cosenza sarà arbitrata da Volpi di Arezzo. E ora come sempre, prima dei saluti, andiamo a vedere le previsioni del meteo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che vedrà il passaggio di una perturbazione sull'Italia, la pressione atmosferica tende a diminuire nelle regioni centrosettentrionali, priorità perturbazione veloce e con effetti comunque piuttosto modesti. Controlliamo la nuvolosità intanto che arriverà da noi, come vedete il centro-nord dell'Italia sarà attraversato da qualche annuvolamento, anche se in giornata il nord-ovest vedrà già delle schierite e anche all'estremo sud la situazione rimarrà più che discreta. Per quanto riguarda le precipitazioni, si concentreranno principalmente sulle regioni di nord-est e nell'Italia centrale, però in realtà non avremo precipitazioni particolarmente intense e insistenti, per lo più davvero di breve durata. Quindi in definitiva ci attende un venerdì che sarà bello all'estremo sud con ampie zone di sereno e clima anche molto mite. In miglioramento sulle regioni di nord-ovest con il ritorno di ampie schierite, invece nord-est Italia centrale con tempo più variabile e diciamo anche delle piogge, soprattutto Triveneto, Toscana, Lazio, Umbria, comunque precipitazioni, ripeto, non particolarmente insistenti. Per tutte le taglie comunque sulle vostre località, anche in vista del weekend, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Sono le 14, quasi 27 minuti, abbiamo fatto un po' di ritardo, chiediamo scusa al direttore Salvatore Audia che vedo già collegato e pronto per il suo doc, la striscia quotidiana, quindi il tempo della sigla, poi diamo la linea al nostro direttore, l'informazione di Esperia torna come sempre questa sera alle 20.30, quindi restate sul 18, la linea torna al direttore Audia. Grazie. 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 Grazie.